e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono KekloKid ed oggi siamo qua in un nuovo video oggi come potete vedere dal titolo vedremo reagirò a questi sound di alcune macchine questo ve lo dura 10 minuti e vabbè prima di partire lasciate un bel like attivate la campanella per rompervi nessun video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti farò faccio una piccola permessa durante questo video l'audio mi sa che si sentirà un bel po forte quindi io cercherò di non parlare tanto perché sennò poi non si capisce niente partiamo questo primo molto bello però è bruttissimo questo martin un 4-5 minuti bello sound lotus 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 o oh bella questa bel sound Ferrari il sanno turban di sudoran Le macchine sono un po' brutte, però hanno bei sound. Abortivi, questo è il senato del sound V12, ora c'era una Porsche se non sbaglio, eccola. Porsche Typer. Porsche, questa è la Canon 4S. Audi R8. Ferrari R8. Ferrari R8. Ferrari R8. Ho sentito una uva, mi sembra, che non era questa. Oh, la clavare, 720S. Pubblicità, ora la schippiamo. Oh, drift tone della Lotus. R8-V10. Oh, Rolls Royce. Vecchiotta, Rolls Royce, T3S, Vecchiotta, Lotus. Questa c'è un bel sound, sentite. Questa c'è un bel sound. 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 Grazie a tutti Questa è vecchia Questa è la continuità GT vecchia Che cos'è? Non so cos'è ma ho il presentimento che avrà un forte sound Ferrari Questo si che è un pezzo Perciò 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 E niente ragazzi Questo video si conclude qua Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like Mi raccomando Iscrizione Campanellina E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao